I prossimi due sul palco portano il nome di Bears, che se la vede contro King Sound. Ok. Where are you? King Sound! Ok, abbiamo perso King Sound. Vuoi il microfono? Vuoi il microfono? O vuole due calci in bocca? Cosa vuoi? Dimmi tu. Ah, non volevi? Ne non volevi. Grazie. Basta. Ok, dai ragazzi, come sempre, due minuti, quattro quarti a testa, pari o dispari per chi vuole iniziare per primo. Ok, parte King Sound, un bel applauso ragazzi. Sensei. Sensei. Mi tocca cacciare con un vivello, mi metto in ginocchio, non mi ginocchio, mi abbassa il tuo livello. Non hai capito, giri con dei cazzoni, è arrivato Alibaba con i quaranta negroni. Senti, quaranta negroni arrivo, sono cili di improvvisazioni. Mettiti in ginocchio, bello, tuppe la bocca senza gente, allora fruttiami l'uccello. Ti do un consiglio, non è una finta di da tua madre di mangiare i ditalini, quella in pasta che non mette incinta, non mette incinta sti coglioni. Credito. Scusami, non l'ho capita, arrivo con lo stile della rima sempre mica, sai come è io te lo dico, è inutile che sconti, però rifatti gli occhi, mia mamma senza marito di l'italino, c'ha bisogno di dire, ce ne fa già troppo. Non mi capito Fred, parli di Chris, se fa troppi bocchieri non stavo ascoltando il beat, non ho capito parli di cose a mambera, tua madre si sa che la chiama ma non papera. Oh papera come i tuoi piedi, sebi, arrivo con lo stile e quando arrivo frati chiedi come faccio, mi hai sottovalutato, stile improvvisato, rappresento la specchia e brugnato Guardo che la rima tenegrosa, te Andretta dedicato persino bocca di rosa, quindi per cagare il cretino ti porto il talento dal quartiere spettino Senti quando arrivo frate succhiati sto giusto, il premio di consumazione ti pago due buste Ma che cazzo sta dicendo questo qua cosa dice, non ho capito della droga, ci ho fatto cicatrice, non uso più un cazzo ma va a cagare, sei te fratello che ti fai sempre arrestare Sempre arrestare fra mi hanno sgamato, arrivo il rima improvvisato un attimo con l'attacco spacciato, boglione zitto, ti mando il caciculo a casa e ti ho trascito, paga l'affitto Non ho capito questo offesso, più lo sento ascoltare, più si pida un foglio di possesso, fa la gara anche più criminale, vi dici sempre sulla prima pagina del giornale Ok, sono stati due minuti, va bene? Ok, sempre con la solita modalità, se volete che passa al verso alla mia destra fate un bello urlo, ora! Ok, se volete che passa a chi il salda la mia sinistra ha fatto un bello urlo, ora! Ok, lasciamo il parere della giuria E' da nudo, è lenta la cosa, l'ho detto E ve l'ho detto che è lento il download, un attimo Facciamo così, dato che abbiamo già fatto fin troppi spareggi, però devo dire la verità, secondo me sta roba raga è stata un po' così così perché lui secondo me ha avuto rime molto più ad impatto Tu hai tenuto molto meglio il tempo, capito? Però è una roba, facciamo così, secondo me, facciamo una battle senza tempo, semplicemente neanche una battle, facciamo una roba rapida, voi dovete capire rapidamente secondo voi chi è più forte raga, senza tempo Un argomento veloce veloce Cocaina Va bene, qualcuno, cocaina, ok Due quartine a testa, rapido, quanta risposta? Ah, senti un po' quando arrivo porto questa merda nelle vene, questo parla di coca l'argomento lui lo sa bene, sì, io ve lo dico un attimo, arrivo rapido, ti striscio, capito? Quando arrivo sono a magico, ti viscio Parliamo di coca, su questo sono insieme ai galli, mi chiamano Crash Bandicoot, faccio sempre i cristalli, non hai capito? Mannaglio, ti cristallizzo bicarbonato sul cucchiaio Secondo voi? Chissau Secondo me anche Secondo voi? Pre, ho fatto due quartine, vi ho detto Bambam, così, rapido, rapido Quindi? Raga, per me, per me, onestamente, per me è passato kill Perché dovevamo fare una roba abbastanza rapida Secondo voi? Ok, secondo voi? Paura È stato meglio sul tempo e sul mic, ma sono salito sul palco alla Walter White Ok, ok, è passato kill sound, io sono un attimo un po' leggiato nella scena Ok, ok, va bene, va benissimo